Ciao a tutti ragazzi, Agua qui e in questo video vi darò 10 consigli su Echo Jungle. Quando fate i campi cercate di colpire tutti i mostri con la vostra Q, ricordando che l'abilità fa più danni al ritorno che non all'andata. Usate anche la W a ogni campo nei primi livelli, il mana non sarà un problema ed è un ottimo modo per prendere meno danni possibile. Usando le maestrie difensive avrete la possibilità di pulire l'intera giungla senza dover tornare in base, anche partendo di refillable. Se invece volete optare per talenti più offensivi potete usare questi, ma sarete costretti ad andare back dopo 3 campi oppure a fare il granchio e provare a fare un gank. A livello 3 potete scegliere se continuare a farmare la giungla o gancare una lane vicina. Echo ha un ottimo potenziale di gank, specie su campioni senza escape e se avete controlli aggiuntivi in lane. Tuttavia non gli riesce esattamente bene fare 1 vs 1 contro jungler aggressivi, visto che la sua W ha un ritardo di ben 3 secondi e risulta difficile da colpire se gli avversari vi vedono attivarla. Una cosa molto importante da ricordare è che si può annullare il cast time della W o della Q se le si utilizzano subito dopo aver usato la E. Un gank di Echo pre livello 6 si svolge quasi sempre allo stesso modo. La W va fatta partire da un punto fuori dalla visione avversaria e piazzate in modo che prenda l'avversario o perlomeno gli tagli la via di fuga, questo è fondamentale. Un gank sulla mid lane è abbastanza facile da fare, la lane è corta e la vostra E ha un buon range. Aspettate che il lane del nemico sia impegnato ad arrastare il vostro compagno di team piuttosto che l'assistare minion prima di lanciare la W, gli renderà molto più difficile schivarla. Dopo il livello 6 ecco la possibilità di diveare con relativa tranquillità visto che la ulti gli toglie l'aggro dalla torre e potete sfruttarla per tornare in una posizione sicura. Una cosa anche importante è che a livello 6 la vostra passiva fornirà un rallentamento maggiore. Nelle lane laterali dove in genere è più difficile colpire la W potrete invece gankare normalmente di E, attivare lo slow di Q più passiva e poi far partire la W per tagliare la strada all'avversario rallentato. Sarà molto più facile gankare così ma vi giocherete l'effetto sorpresa. Ecco è un champion estremamente versatile e può farsi una buona varietà di oggetti. Il gauntlet e lo zonia sono i più comuni su di lui visto che sinergizzano alla perfezione con il personaggio. Consiglio di farli ogni game. La Rodofagis è anche popolare ma abbastanza rischiosa da fare se non si sta andando particolarmente bene poiché richiede tempo per essere caricata e ritarderete il gauntlet facendola. Ricordate come al solito di upgradare il trinket appena possibile. Su Ecco van bene sia quello blu grazie al range elevato dalla W che quello rosso per avere più controllo di mappa. Ecco non è un champion facile da usare visto le varie combo che puoi utilizzare. La sua W e la sua R sono estremamente difficili da colpire e usare al meglio. Una cosa che dovete ricordare ad esempio è che la vostra Q fa molto più danno al ritorno che non all'andata e che potete manipolare la traiettoria attraverso movimento, flash, facedive e ovviamente ultimate. Mentre state scappando da un avversario potete capovolgere la situazione facendo la seguente cosa W sul posto, possibilmente fuori dalla visione avversaria, Q per rallentarli, ultimate che va a connettersi con la cronosfera, stunnando e danneggiando l'avversario. Questa invece torna molto utile in teamfight. W sul posto, zonia immediato, ultimate. In questo modo sfrutterete il fatto che lo zonia vi tiene fermo mentre siete in stasi, dando tempo al vostro ologramma di arrivare alla vostra posizione. Il vostro ologramma è tutto per voi, in teamfight dovete sempre cercare di tenerne traccia. Usare l'ultimate per scappare è ok, ma è come utilizzare l'abilità a metà, il danno ad aria che provvede veramente elevato e dovrete cercare di avere i riflessi pronti per prendere più avversari possibili con essa. Oltre agli stordimenti, silenziamenti e provocazioni, anche abilità che vi mobilizzano possono impedirvi di usare l'ultimate. Tenetelo a mente la prossima volta che avrete contro Morgana o Lux. In teamfight ecco può fare una marea di cose. Può ingaggiare con la sua W, cosa che gli riesce bene se in team ha già altri personaggi con controlli pesanti. Può poccare con la sua Q, tenendogli avversari a distanza. Può rallentare il primo nemico che si avvicina troppo con la passiva per proteggere il suo team. Tutto dipenderà dalla situazione e da come si sta svolgendo il teamfight. Ricordate solo che non siete molto resistenti e come detto in precedenza, usare l'ultimate solo per rimanere in vita non è granché. La E di Echo può fargli superare molti muri, anche alcuni abbastanza spessi. Inoltre funziona allo stesso modo della W di Maokai. Una volta fatto partire l'autoattacco, Echo arriverà a destinazione anche in caso di flash o escape simili. Face Dive funziona molto bene come execute su champion avversari, specie se viene usata in congiunzione con il terzo stack di passiva. visto che è un autoattacco beneficia dai danni aggiuntivi passivi della W se l'avversario è sotto il 30% degli HP. Beh, per questo video è tutto, spero vi sia tornato utile e piaciuto. Se è così vi invito a mettere mi piace ed iscrivervi al canale per altri contenuti equalmente utili e a volte stupidi. Agua out, bye bye! Ciao! 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 Ciao!